eccoci qua una parte diciamo è stata completata c'è ancora da pulire passare un po di carto vetrata però in taglio diciamo è finito questo risultato ok per abbassare questi spazi qua userò questi cinque coltelli il coltello da primo taglio un altro coltello e queste tre scoppie che non sono piatte ma sono ad una leggera curvatura perciò sono molto utili per fare questo lavoro qua poi anche avendo la maniglia piccolina sono molto pratici e molto comodi perciò possiamo iniziare un'altra leggera Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.